ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video non è proprio una challenge è più un video penitenza dove farò la penitenza a mia sorella sto parlando un pochettino piano perché lei è in bagno e il bagno non è tanto l'andata da dove sono io in questo momento e quindi potrebbe sentirmi e ora direi che potremmo passare direttamente alla penitenza io già ho programmato tutto il piano malvagio allora io lascerò il telefono sì perché sto registrando col telefono penso che si veda quando fa schifo la pixel vabbè lasciamo parte io lascerò il telefono sul comodino spero che si possa vedere altrimenti sono proprio fregato fortissimo ovviamente sto per il video mentre posiziono tutto perché lei di solito quando si deve truccare ci mette sui dieci minuti e non posso far durare dieci minuti soltanto la parte mentre lei ci trucca scusatemi e quindi ci vediamo dopo ok aga sta arrivando aspettate vuole aiuto il buco asco adesso mi sto mettendo un po' di profumo sì no perché non mi sta aspettando gli occhiali dove sono? eh sono non mi sta aspettando gli occhiali e vado via ciao ciao come vedete è stato perfetto è andato come io avevo pianificato abbia ovviamente un saluto cioè ciao non ti vedi bene vabbè vabbè ci si vede al prossimo video boni aspettate boni ciao